eredità avvelenata non spoilerai niente dalla trama è tutto praticamente la trama è questa eredità avvelenata basta mi sono stancato ormai ho deciso venda ai cinesi stop basta non ne paghiamo più ma che me stai a dire che me stai a cacciare dalla società mi metti in mutande così ma come faccio c'ho una famiglia mutuo che devo fare niente non mi interessa ma guarda che sei proprio l'infame si guarda brindo a questa decisione ma che brinda ma dai su ma levati va vattene via da tu moglie vai 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 addio siamo usciti fuori campo fine non davanti ciao cara guarda che sono molto nervoso sono molto nervoso ti prego di prepararmi una tisana perché mi devo rilassare ho litigato con Marco non ne posso più io vado via vai perché arriva lei che prepara oh grazie cara amore ti ho portato la tisana mi serviva proprio sono proprio proprio ho la tachicardia ti lascio un po' tranquillo grazie ti lascio un po' tranquillo grazie toc 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 signore sono venuta a ritirare la sua tazza signora 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 il signore non risponde è pallido è freddo è morto oh mio dio Mario che ti è successo chiama la polizia ma io adesso devo chiamare il statello lo devo avvertire pronto Bernardo? si devo dirti una cosa io non so come dirtelo è successa una cosa terribile che è successo? devi venire immediatamente a casa tuo fratello è morto oh mio dio ma cos'è successo? fermi tutti polizia sono l'ispettore Nico Giraldi nessuno esca nessuno entri venite tutti qui con me eccomi eccomi il signore è deceduto nel frattempo chiameremo il medico legale identificatevi voi chi siete? io sono la cameriera della famiglia lei è la moglie mi dispiace signora lei? io sono il fratello della vittima forse dovremmo chiamare anche il socio in affari erano molto vicini assolutamente si chiamiamolo faccio subito signor Sacchi pronto? signor Sacchi signor Sacchi bruno il signor Gino è morto ci raggiunga al più presto per favore immediatamente eccomi ma come? come è morto? come è morto? lei è il socio in affari della vittima quando l'ha visto per l'ultima volta? ma l'ho visto io so che si sono visti a pranzo l'avete anche litigato io gli ho preparato una tisana per calmarlo che cosa gli hai fatto? ma io sì ci ho litigato ma che vuol dire questa cosa? perché avete litigato? ma abbiamo litigato perché mi ha mandato via dalla società mi ha estromesso dalla società e io che 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 ma io ci ho solo litigato ci ho parlato e beh sono volate un po' di insulti minacce? ma gli ho dato dell'infame che ne so che li hai dato a mio marito? no ma ci siamo bevuti cosa ti hai fatto? ma ci siamo bevuti una cosa insieme prendi un attimo una telefonata sì sì il medico legale conferma un avvelenamento come? e quindi? venga con me ma dovrà rispondere ad alcune domande incommissari anfamona ma hai fatto pure carcerà ma hai fatto pure carcerà ma hai fatto pure carcerà io esco vicino santo cielo io raccolgo queste cose del terra com'è stato possibile? seppure si conoscevano da tantissimi anni non riesco a capire come possa essere successo si scosso decisamente hai bisogno di un massaggio? no veramente non mi sembra cosa? accomodati mi accomodo adesso tuo fratello è morto e noi possiamo avere un futuro davanti ma che futuro? mi sembra il modo di comportarti capisco sei scosso hai bisogno di tempo e tu però non mi sembri abbastanza scossa non credo di voler continuare questa conversazione sono scossa da tanto tempo che era un po' che era un po' che cosa? volevo dirti delle cose però insomma tuo fratello era su con l'età io non credo che mi interessi sentire questo discorso questo non è un atteggiamento normale ci deve essere qualcosa di strano forse bisogna approfondire potrebbe essere stata arrestata la persona sbagliata oh 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 tutto bello sto così però sto così come vuoi? io ho bisogno di parlare col signor Zacchi adesso in questo momento? in questo momento è di vitale importanza le do dieci minuti in mia presenza va bene ecco come sono ridotto guarda guardami guardami perché? perché lo hai ucciso? ma quale ucciso? quello mi ha cacciato via ma allora non hai capito niente tu niente proprio ti ha cacciato via? l'hai ucciso per prenderti tutta la società ma non hai capito proprio niente indovina chi è che erediterà tutta la società e chi se non tu che sei l'altro socio no no noi avevamo un accordo avrebbe ereditato tutta la moglie la moglie ah esatto ha delle prove di questo? certo abbiamo il nostro accordo scritto con Roberto che a me mi estrometteva dalla società e avrebbe dato tutto alla moglie e io sono l'unico erede di tutti i beni familiari non avendo loro figli adesso questo atteggiamento il suo atteggiamento ha senso ma ci servono delle ulteriori prove questo non basta vero convochiamola e capiamo se esiste qualche possibilità di capire sapevi di essere l'unica erede della società del signor Sacchi e di tuo marito? assolutamente no io non sapevo che ci fosse questo accordo fra loro questo mi sembra molto strano è sempre stromessa dalle sue decisioni familiari signora ho ordinato una perquisizione della sua stanza a breve avremo i risultati eccomi eccomi commissario io ho conservato la bustina che stava nella tisana del signor Roberto e nella stanza della signora ho trovato le altre eccole queste non sono le bustine della tisana che lui prendeva ma queste sono assolutamente identiche e stavano nella stanza della signora signora io non voglio dire niente ma questa non era la tisana che prendeva sempre il suo marito eppure era stato tutto perfetto fino adesso ecco la scientifica ci dirà il risultato delle analisi sono stata io sono stata io perché lo hai fatto? perché? perché io non lo sopportavo più e quindi volevi prendere tutto per me tutto per te ecco a cosa porta l'ingordigia bravi bravi vieni i deceduto ma come sai Alberto Roberto? ne vogliamo parlare? grey chiudato il morto? non ci dà nessuno bravi grazie grazie gatta in amore Nisio Sì, non riesco a provare il mio gattino. Mi so che a te no? Beh, cerchiamolo, cerchiamolo un po'. Micio! Ho visto il gatto di questa signora? Micio! Sembra che non ci sia. Sembra stupaccio! Non lo so, non saprei, non saprei, non saprei... Ma sai che lei ha degli occhi bellissimi? E vabbè, noi ritorniamo su. Scusate, niente. Scusate, lì sei quando compare, non sapete. Sì, sono io. Sì, sono io. Dovete venire a guardare loro? Ho fatto quelle volte strane, no? Ho fatto il cane, avevo fatto quella... Oh! Ho fatto il cane, avevo fatto quella... Io ho fatto paiole. Non ho capito, è perfetto! Io ho fatto due volte. Non ho capito. Io ho capito! Ah già è passata? Ah è già passata, ok, vabbè, e vai, villaggio dei dannati, ah scusa, villaggio dei dannati, nello sperduto villaggio Coraline di Elfi il tempo trascorre sereno e fervono i preparativi per la festa dell'estate, ma nelle lande desolate l'oscuro mago Haril, Haril con l'H, prepara la sua vendetta da esiliato contro il villaggio di Coraline. Mi hanno esiliato, mi hanno mandato via dal villaggio, ma io adesso la mia vendetta, saranno tutti quanti soggiugati a me, li manderò a tutti quanti a lavorare, a prendere l'oro, Klaatu, Barata, Nicto! Ma in tutto questo marasma entra in villaggio Kendall, Kendall col K, che torna a casa dopo una lunga battaglia, ma si rende conto che non samofila nessuno. A quel punto il nostro eroe si rende conto che c'è un'influenza malvagia e intuisce che Haril con l'H c'è lui dietro il tutto. Ma è un ragno enorme! Combatti contro un ragno enorme! Balla di fuoco! Bravo Roe! Il primo colpo! Il primo colpo! Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh! Combatti! Staccati la battaglia, la battaglia! Ma cosa vuoi fare? Ti prendo Oddio Mi hai riportato All'elfo bellissimo che ero Grazie Cosa vuoi fare tu Kendal? Misero elfo Con la tua energia, con la tua forza Cosa vuoi fare? Sei in belle contro di me Ecco, palla di fuoco L'ho parata con la spada E ancora di più Triple palla Triple proiettili Grazie 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 E' il K che ti ha E' il Kendal col K Grazie Grazie a tutti Inchino Inchino Ti è perduto Avventuriero Una spinge Sul mio cammino Com'è possibile? Non ti sei accorta che sei su terra consacrata? No, non mi pareva Non mi pareva Ti alla ricerca del tesoro E alla scoperta Del tesoro inestimabile Mi aiuterete Rivolgiti all'oracolo Avventuriero Cosa mi dirà l'oracolo? E chiedi all'oracolo Mi fa una piega L'oracolo Tu Sei un oracolo? Non puoi parlare? Mi farai un indovinello? Sono pro Siamo pronti Il c'è Una lampadina Una mela Un giorno Un dottore La mela al giorno Toglie il meglio Ma Ma E Straordinà Una mela al giorno Toglie il medico di torno Oh Oracolo Più difficili Li dovete fare Questi indovinelli Più difficili Oracolo Tu hai un indovinello per me? Oh Wow Dopo Meglio una voce Una candidata domani Grazie Sì Meglio una voce Per la candidata domani Grazie Oracolo 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 è tutto nelle tue mani Tu hai un indovinello per me? Ti prego Un becchino Un contadino Un contadino Un contadino Al contadino Quanto è buono il formaggio Con le tene Oracolo Oracolo Dimmi Ho conquistato il tesoro È il mutuo di casa mia Scopri Dal conto di te Che fortuna Ammazza Ma Anche questo è un indovinello Che cos'è il tesoro? Il pranzo È il pranzo Il pranzo Sì Grazie Grazie Le nuove frontiere del cinema Il cinema interattivo Grazie 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 Grazie